Lo sai che cosa ha detto Toro Seduto agli ieri? Quando i fiumi saranno asciutti e gli animali estinti capirete che non si può mangiare il denaro. Tu da dici a Toro Seduto che non capisci un cazzo. Un film destinato a far parlare di sé nel bene e nel male è una pellicola a nuovo lavoro di una firma straordinaria, quale quella di Sergio Rubini e la sua quattordicesima regia, che ancora prima di uscire nelle sale cinematografiche ha fatto discutere dividendo l'opinione pubblica. Un lungometraggio infatti girato a Taranto. Il grande spirito, questo il nome del film, sceglie come sfondo una città vittima dei fumi inquinanti del siderurgico e della malavita organizzata. Gran parte delle scene è stata girata tra i tetti delle case tarantine, dove Tonino, un ladruncolo riuscito a fuggire dopo una rapina, si rifugia incontrando lo strano personaggio interpretato dall'eccellente Rocco Papaleo. Il film ovviamente non è un film solo su quello, anzi è più di uno sfondo, ma diciamo è più una storia centrata su un'amicizia, e quindi Taranto è il luogo dove avviene una storia che forse poteva avvenire anche da un'altra parte, anche se Taranto era perfetta per raccontare una storia di amicizia e di deriva in qualche maniera di questi due personaggi, questi due borderline, soprattutto il personaggio che interpreto io, che deve la sua deformazione mentale a un'esperienza tragica, che era la morte del padre, che è morto, operaio dell'ILVA, è così che lui si è sentito indiano, si è sentito così in questo parallelo con l'epopea americana della costruzione della ferrovia della Western Pacific, che ha diviso, sterminato i bisonti, ha decimato la popolazione indiana. Una pellicola che vuole essere comunque una commedia, ma dal sapore amaro, nello stile di un Rubini che invita a sorridere, ma al contempo a riflettere profondamente sulla piaga di una società ascecata dal potere dei soldi, a discapito della salute della città e dei cittadini. Divisa l'opinione pubblica, dicevamo, tra chi è stanco di vedere Taranto balzare agli onori della cronaca, in questo caso della cinematografia, solo per brutture e nefandezze, e chi invece reputa che sia fondamentale denunciare continuamente i sopprusi per pretati e non chiudere gli occhi su quella che può considerarsi una vera e propria strage di innocenti, come spiega lo stesso regista Rubini. Non è che si può risolvere il problema non parlandone. Che modo è? Penso che a un certo punto questo problema vada messo quotidianamente all'ordine del giorno. Parlare solo di quello per dire che questa è una città bellissima, che ha un problema. Se improvvisamente cominciamo a dire che questa è una città bellissima e nascondiamo il problema, il problema non lo risolveremo mai.